Veneto Banca non aveva già più soldi al termine della gestione consuli Trinca e gli amministratori che hanno preso il loro posto avrebbero dovuto affrontare il fallimento anziché prorogare l'agonia della struttura dei risparmiatori. Questa è la valutazione del perito del Tribunale di Treviso e da ieri anche quello della Corte d'Appello di Venezia. Quasi un miliardo di euro di passività il 25 giugno 2017, ovvero quando iniziò la procedura di liquidazione. Il 22 ottobre ci sarà l'udienza per la discussione della consulenza con conseguenze importanti e non solo per la gestione a banca intesa. Lo conferma chi a Treviso ha presentato per primo l'istanza di insolvenza. Si apre la possibilità di accertare eventuali reati fallimentari che potrebbero coinvolgere non soltanto l'amministrazione consuli Trinca ma anche coloro i quali a quell'amministrazione sono succeduti. Quindi volti e nomi che hanno cercato di raddrizzare una barca già stando alle perizie abbondantemente affondata. Avere ignorato l'insolvenza porta dritto al reato penale di bancarotta che allungherà i tempi del processo sul dissesto finanziario, ora a rischio prescrizione. Ma che però sotto il profilo dei rimborsi e le azionisti, secondo l'avvocato Fadalti, conterà davvero poco. Che cosa ci guadagnano gli spremiatori da questa sentenza? Possibile. In termini di risultato economico assolutamente nulla. In termini di soddisfazione morale tantissimo.